Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueturri.it L'arrivo dei migranti è comunque a rilento, signor Prepetto, però l'emergenza continua, si cercano comunque strutture. Sì, gli arrivi, considerata anche la stagione invernale, sono ridotti a numeri inferiori alle due unità. Comunque noi ci stiamo anche organizzando, ci stiamo muovendo in previsione di un temuto, una temuta possibile ripresa degli arrivi con la stagione primarienile. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo bando per chi avesse interesse a gestire questa situazione e ci sono i termini per la presentazione delle domande. Stiamo facendo anche una verifica delle strutture per riportarle, dopo il periodo di crisi, per riportarle nei numeri ottimali. Vediamo, continuiamo a seguire la situazione. Il numero dei migranti in Irpine che aveva già superato la soglia potrebbe aumentare? Secondo il piano ANCI no, dovrebbe diminuire. Al momento ci stiamo attestando, avevamo superato abbondantemente le 2.000 unità, adesso siamo scesi intorno a 2.000 presenze. Il piano ANCI prevede un numero inferiore, però noi speriamo di avere la disponibilità anche da parte degli amministratori per rimanere su queste cifre. I sindaci del Vallo di Lauro Prefetto hanno intanto avvisato che saranno loro a scegliere il numero di immigrati da accogliere, d'accordo? Se il piano ANCI non va a regime, dovessimo trovare disponibilità all'oggettivo e noi proseguiremo secondo quanto fatto fino adesso. Andando al di là delle richieste dei sindaci? Andando anche al di là delle richieste dei sindaci.